Dall'alto al basso, Giappone, Gran Bretagna, Olanda, Stati Uniti, Australia, Cina, Canada e Germania. Beh, una sapetta questa molto interessante che gli Stati Uniti non hanno portato a casa nel medagliere, nell'Olimpiade, addirittura sono scivolati al di fuori del gioco delle medaglie, addirittura l'Italia. Un Gran Bretagna che invece è sempre stata al numero uno, appunto è orfana, ed è un uomo che ha sempre fatto la differenza, l'ha fatta nella rana ed è quello che spera di sfruttare la Cina oggi, il strapotere della rana maschile per poter dare il vantaggio definitivo. Mescolati tutti con uomo-donna a seconda delle forze in campo, compito quindi molto difficile in alcune situazioni anche per il giro di onde. In acqua sarà il dorso per aprire. Ultimo ad arrampicarsi sul device, Ryan Murphy in corsia numero quattro, Stati Uniti e Cina, che arrivano a velocità fortissima per rompere la superficie dell'acqua. Cina con Jayu Siu, Stati Uniti, si diceva Ryan Murphy, parte alta della vasca, anche il Giappone prova a sprintare subito con Ryosuke, i Rie, staffette che schierano il maschio nell'alternanza uomo-donna in avvio, in apertura. Quaggiù anche la Germania, Ole Braunschweig davanti, comunque sono gli Stati Uniti, il passaggio 25-27 da parte di Ryan Murphy, valori che però sono abbastanza in equilibrio nei confronti della Cina, non c'è un vero e proprio vuoto tra le staffette del dorso alla maschile in questo avvio. Cina e Stati Uniti con gli Stati Uniti leggermente davanti, più indietro invece il Giappone e la Germania. Si va al cambio, via, vediamo il timbro con uno 0-15 di scarto per l'ingresso in acqua di Nick Fink, 52-02 il parziale. Beh, devo dire, ha tirato fuori una vera prestazione da capitano. Murphy ha addirittura due decimi meglio del crono con cui ha vinto ieri la prova davanti a Cekon, oggi ha sfruttato bene l'acqua ferma per scivolare via con forza, condizionando anche l'Australia che non è riuscito ad andare meglio del 58-0. Perdendo quindi sulla carta cinque decimi preziosi che andranno oltretutto ad aggiungersi a quanto Stable Lee Cook perderà nei confronti sia di Keean, sia di Fink che di Chin. Stati Uniti con Nick Fink, Cina con Iang Chin, è proprio la Cina che effetto ha il sorpasso. Nick Fink di carattere e di rabbia cerca di non cedere troppo, infatti dopo aver subito il sorpasso però sta cercando di rimanere e lo fa più o meno a contatto con il cinese in corsia numero 6. 1.50.21 il parziale degli Stati Uniti, 1.49.73 il parziale della Cina per la staffetta Stelestriscia, ora Torri Aschi per la staffetta del dragone Yufei Zhang. Una frazione davvero notevole a 57.31 per il campione del mondo dei Centorana, un cambio della Aschi davvero sbagliato, ha sbagliato la parabola di ingresso in tuffo questa è la frazione in cui in teoria sulla carta, stato quanto abbiamo visto in questi campionati la Cina potrà allungare ancora e se gira con 8 decimi un secondo andarla a prendere è praticamente impossibile. Cina che in ultima frazione avrà Yu Jie Cheng per gli Stati Uniti invece in acqua entrerà Kate Douglas, arriva all'Australia, grandissima, pardon, in corsia numero 5 l'Australia con Matthew Temple che sta provando a riportare sotto la staffetta dei canguri davanti c'è sempre la Cina che ha preso il cambio a 2.45 e 2.42 dunque Yu Jie Cheng per l'Australia, Shayna Jack per gli Stati Uniti, Kate Douglas con la Cina che ancora ha un ottimo margine da gestire su Australia e Stati Uniti. Sì, non so cosa cambia combinato Toriyaschi ma ha notato una frazione al 58 inguardabile adesso è l'Australia che ha una minima possibilità di andare a recuperare con Shayna Jack le cinesi ma è proprio una speranza che rimane in mente loro perché due secondi non si prendono a nessuno. Toriyaschi che ha compromesso la staffetta statunitense e la Cina davanti che continua a spingere continua a volare Cina che deve rintuzzare gli ultimi attacchi di un'Australia che arriva comunque velocissima game over con la Cina oro, Australia argento e Stati Uniti bronzo e sono Jia Yu Siu, Ayan Chin, Yu Fei Zhang e Yu Jie Chen che si accomodano salgono sul gradino più alto del podio medaglia d'oro l'ultima che viene assegnata in questa quarta giornata dei campionati del mondo nuoto tra le corsie. Beh direi una vittoria troveremo comunque gli Stati Uniti come punteggio generale in alto probabilmente davanti alla Cina però Cina che in questa edizione del mondiale ha tirato fuori i nomi nuovi, le condizioni migliori delle vittorie a sorpresa è una situazione generale che è ben più Florida rispetto agli Stati Uniti sicuramente fino adesso la grande nazione delusa da questo campionato lo si è visto da subito, hanno al momento tre ori che intendiamo che sono sempre un discreto buttino ma per una squadra che abitualmente ne portava a casa in un'edizione 15-16 certo a metà percorso, non è il transito che si attendevano di avere un simpatico scambio intanto di interviste con la nazionale cinese grazie 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 grazie